La biodiversità è tantissima dal punto di vista dell'agroalimentare noi abbiamo, faccio esempio del pomodoro, tanta biodiversità, mi sembra il secondo paese al mondo ne ha 15, a livello di mele ne abbiamo centinaia di tipi come anche a livello di cultivar, peioli e extravergine di oliva. A noi cuochi sta il compito di andarli a cucinare nel modo giusto quindi dobbiamo cercare di rappresentare al meglio la cucina italiana ecco che il mondo da questo punto di vista ce l'invidia.